Le emittenti televisive regionali versano in uno stato di crisi drammatico, tanto da sembrare irreversibile per tutto il settore. E' l'allarme lanciato dal segretario della Fistel Sicilia, Giuseppe Tomasello, ritenendo indispensabile e urgente che la regione cerchi soluzioni adeguate nei confronti di un comparto così delicato per democrazia e pluralità dell'informazione nell'isola. Il sindacato imputa la crisi al forte calo degli introiti pubblicitari per la recessione economica e alla mancanza di una legge regionale che preveda dei contributi così accaduto nel resto d'Italia all'avvio della digitalizzazione del segnale televisivo, lo switch-off. La Fistel giudica lodevole l'iniziativa ad una proposta di legge già all'approvazione del Lars, ma osserva, leggendo nel contenuto, riteniamo che i rimedi proposti sia dal punto di vista normativo che economico non siano sufficienti a fare fronte al panorama attuale delle aziende in crisi del settore. Sindacalmente, spiega la Fistel Sicilia, la problematica più urgente è che i lavoratori sono privi di ammortizzatori sociali non previsti per il settore se non inderoga la legge vigente. L'ultima vertenza riguarda i lavoratori dell'emittente televisiva Telecolor di Catania, dove ricorda il sindacato, i lavoratori, nonostante un accordo di solidarietà ancora non finanziato, hanno ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento che riguarda 29 lavoratori, tra tecnici e amministrativi, su un totale di 39 unità, che se non si riuscirà a trovare una soluzione adeguata, alla fine della procedura si ritroveranno senza alcuna copertura economica.